Ciao a tutti, io sono Gianluca. In questa lezione continuiamo a parlare di permessi su file e cartelle. Nella precedente lezione abbiamo visto che per leggere e scrivere su un determinato file dobbiamo certamente averne i permessi. Ma andiamo nel terminale. Sono già nella cartella php7. ls-l. Vediamo che abbiamo il nostro file di nome file1, la cui proprietà è dell'utente che fa riferimento al nostro web server. Ma creiamo una cartella. mkdir cartella1. Vediamo che la cartella ovviamente è stata creata con utente proprietario Gianluca e gruppo di appartenenza ancora Gianluca. Spostiamo file1 all'interno della cartella appena creata. Bene, andiamo nello script e proviamo a leggere. il contenuto del file con la funzione fileGetContent. Passiamo il percorso relativo. Andiamo ad aggiornare e vediamo che riusciamo a leggere tranquillamente il contenuto del file. Proviamo a scrivere invece nel file. utilizziamo la funzione file.putContent. Passiamo sempre il percorso relativo. salviamo ed aggiorniamo. Anche in questo caso siamo riusciti tranquillamente sia a scrivere che a leggere. Quindi non abbiamo problemi né in lettura né in scrittura. andiamo nel terminale ls-l perché non abbiamo avuto problemi né a leggere né a scrivere sul file perché anche se non siamo proprietari della cartella come altri siamo in grado di leggere il contenuto della cartella. Bene, ma proviamo adesso a creare un file all'interno della cartella 1. Vado ad aggiornare e in questo caso vediamo che abbiamo il classico errore permesso negato. perché abbiamo l'errore permesso negato torniamo nel terminale ed abbiamo questo errore perché vediamo che non abbiamo il permesso in scrittura. Quindi che cosa dobbiamo fare? Ovviamente dobbiamo cambiare la proprietà della cartella. Mi dimentico sempre. Bene, vediamo adesso se riusciamo a creare il file. Non abbiamo errori. Andiamo nel terminale facciamo ls-l cartella 1 e vediamo che siamo riusciti a creare il file senza problemi. Dato che il file è stato creato tramite il web server tramite il nostro script come utente proprietario e gruppo di appartenenza abbiamo direttamente l'utente che fa riferimento al web server. la cosa a cui dobbiamo prestare molta attenzione è quindi che per leggere o scrivere su un file esistente oppure per creare un altro file dobbiamo avere i permessi non solo su quel determinato file ma dobbiamo avere anche i permessi di tutte le cartelle che fanno riferimento al percorso del file. torniamo per un attimo alla situazione precedente quindi come proprietario della cartella reimpostiamo Gianluca così come il gruppo proprietario e adesso proviamo di nuovo a leggere e scrivere su quel file andiamo ad aggiornare e ancora non abbiamo problemi torniamo nel terminale e facciamo una modifica vediamo adesso che gli altri hanno la possibilità di lettura sulla cartella ma se andiamo a togliere questa possibilità ovvero facciamo chmod 770 cartella 1 vediamo adesso se riusciamo a leggere il file bene come potete notare non abbiamo il permesso in lettura perché non abbiamo i permessi necessari per leggere nella cartella bene il discorso su permessi di file e cartelle termina qui nella prossima lezione ci concentreremo sulle funzioni che PHP mette a disposizione appunto per leggere e scrivere o creare un nuovo file per questa lezione è tutto ci vediamo nella prossima lezione